Musica Nella Casa degli Insegnanti oggi lavoreremo con Alberto con il contributo delle persone che hanno realizzato dei lavori nelle loro classi. Il principio è realizzare un'intervista doppia tra Trottolomeo e Copernico per i due modelli cosmologici principali. Sono per preparare una lezione che poi verrà rimodellata e rimaneggiata dai miei alunni appena avranno anche loro l'iPad e il device personale. Notability? Io sono una rompiscatole che fa sempre delle domande nel momento sbagliato. Adesso le ho tutte segnate, dovrò riferirle alla fine della lezione se ci sarà il tempo. In compenso ho imparato delle cose che non avevo mai pensato di chiedere. Musica Abbiamo giocato, giocato a dadi una bella giornata di sole chiusi dentro il cesino. Però ci siamo divertiti lo stesso perché abbiamo lanciato i dadi con Starcube e inventato e messo su una storia. E alla fine di tutto possiamo dire veramente che il dado è tratto. Musica Musica